Sono alla Fortezza Nuova, quella che è circondata sempre dall'acqua. Stamattina mi sono levato lo sfizio. Qua ci sono cannoni, panchine e di sotto c'è tutta la Livorno. Da qui si vede il mondo, il mondo come si dice dai nostri piedi. Ci sono le panchine, alberi di ogni genere e tanta pulizia, devo dire, sinceramente. E' uno spettacolo questo, erano anni che mi ripromettevo di venire e non l'ho ancora fatto. Ecco qua. CR, non ci leggo altro. Non si vede bene che siamo dall'alto, guardate. Tutte le stradine sotto con laterali. Faci con una vera pulizia, vedo con molto piacere un raccogliettore di sporco. Ben tenuto. Ora, rimonto. Molto ben pulito. E si vede da sopra tutto quello che vi anzi ho visto dal basso. Eccoci qua. Allora, vi faccio vedere. Ecco, si vede quel fulgoncino bianco vicino a dove c'è il passaggio. Ecco dove è passata ora la mucca. Ecco, quello è del mio amico. Di Mauro. Le imbarcazioni sono da tutte le parti. Come si vede. Era uno sfizio che mi sono levato, eh. Finalmente. Da qui si può dominare l'intero Livorno. E dall'alto, appunto. Mi è molto ben pulito, devo dire, sinceramente. A questo punto, di dove passo? No, scendo da qua. Sospendo un attimo.